Dal vostro osservatorio, qual è la situazione in questo momento rispetto a questo grandissimo dramma del femminicidio? Allora, in questo momento è triste. Dopo il Covid, che sembrava un anno in realtà dove abbiamo avuto pochissimi accessi in determinati mesi, in questo momento la situazione è drammatica. Noi dall'inizio del 2021 abbiamo avuto 47 accessi allo sportello. Oggi io, come coordinatrice del Centro Antiviolenza Irene, ho voluto portare mio figlio perché è un simbolo, deve cambiare la mentalità e il messaggio deve essere quello che si deve partire da loro, si deve partire dai bambini, perché solamente così possiamo andare avanti con una mentalità diversa che è dove la donna venga considerata paritaria all'uomo. Con quali azioni la Polizia di Stato intende con forza opporsi a questo fenomeno dilagante del femminicidio? La Polizia di Stato è presente da anni su questo fronte, oltre che come Polizia giudiziaria, anche con campagne culturali di informazione, quella, la prima tra tutte, la campagna Questo non è amore. È diventata una campagna permanente e anche oggi vogliamo portare il nostro contributo e il nostro messaggio.